Anche il Comune di Barletta aderisce alla manifestazione Puliamo il Mondo 2013 organizzata da Legambiente su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione ai temi dell'ambiente e dell'ecologia, il Circolo Legambiente Cittadino ha promosso una due giorni, oggi e domani, con la partecipazione di bambini insegnanti delle scuole primarie di Barletta che, muniti dell'equipaggiamento, si sono resi protagonisti di una lodevole opera di pulizia sulla spiaggia libera del litorale di Ponente e la ricerca di rifiuti da raccogliere. Domani l'iniziativa sarà ripetuta alla foce dell'Ofanto con il coinvolgimento di altre associazioni. Sono convinta che creare una cultura ambientale diffusa e continua sia il presupposto fondamentale per difendere il nostro territorio, insegnando alle nuove generazioni come preservare l'ambiente ed avere cura delle risorse che la natura ci offre. Ogni giorno, ha sottolineato l'assessore comunale all'ambiente Irene Pisicchio. Sì, il Comune, come sempre, per queste iniziative, sia per Legambiente ma per altre associazioni, è presente soprattutto perché riteniamo che le nuove generazioni saranno proprio loro, gli adulti del futuro e devono imparare già da subito a comprendere che cosa vuol dire la raccolta dei materiali e l'inciviltà che incombe ormai dappertutto. Sono bellissimi, hanno tutti questi berretti gialli di legambiente e sono tutti, li vedo abbastanza attivi nella pulizia di questa spiaggia che oggi sarà qui e domani invece, rivolta agli adulti, sarà sulla foce dell'Ofanto per la pulizia di quel tratto.